Leonardo Silva Revisore Un tempo qui la vita era diversa. Potevamo uscire all'aria aperta, prendere il sole, fare il bagno in bellissimi oceani, laghi, fiumi. Oggi, però, non è più così. L'aria è rarefatta. Si fatica a respirare. Prendere il sole, poi, è impossibile. Direi letale. L'atmosfera, sempre più sottile, ha infatti permesso ai raggi del sole, anche quelli più dannosi, di agire indisturbati sulla superficie, provocando danni per qualsiasi composto o organismo biologico. E l'acqua? Quella non c'è più. Oceani, laghi, fiumi, evaporati, congelati, scomparsi. C'è però ancora traccia di lei, tra le rocce erose nel tempo, i canali scavati dal suo scorrere, i ghiacci rimasti ai poli e le riserve salate sotto la superficie. Non ci resta molto qui. Abbiamo solo vaste dune rosse e desolate, plasmate da tempeste di sabbia, alimentate da venti leggeri ma estremamente veloci. Già, non ce la passiamo bene qui su Marte. Come ci siamo ridotti così? Beh, in realtà il nostro pianeta è troppo piccolo rispetto al vostro e quindi non è riuscito, con la sua gravità, a trattenere quell'atmosfera che lo rendeva abitabile. Una volta volata via l'atmosfera, poi essendo troppo lontani dal sole rispetto a voi, le temperature sono scese rigidamente. E poi il colpo di grazia. Il colpo di grazia è stata la perdita del campo magnetico, il nostro unico scudo contro le particelle cariche che vagano nello spazio. Se solo si potesse tornare indietro nel tempo. So che voi siete bravi con le scienze, ma viaggi nel tempo ancora niente, vero? Vabbè dai, poco importa. Se vi sto parlando vuol dire che siamo sopravvissuti e sicuramente vorrete conoscerci noi marziani. D'altronde ci cercate da quando quel tipo, come si chiamava? Schiaparelli. 50.000 sol fa, cioè volevo dire 140 anni fa per voi terrestri, pose gli occhi sul pianeta rosso e si accorse della presenza di canali. E voi avete iniziato a pensare a civiltà evolute, chissà che, ma quella non fu altro che un'illusione ottica. In realtà fu solo successivamente con l'arrivo delle vere missioni spaziali che vi siete accorti dei veri canali, quelli scavati dalla nostra amata acqua. E allora ci avete cercati ancora di più. D'altronde, lo sapete, acqua è sinonimo di vita. Ma non ci avete mai trovati. Perché per sopravvivere ci siamo nascosti sotto la superficie e ci siamo evoluti così da avere lì nutrienti in quantità e poter prosperare. Già, non sarà una pacchia, ma questa è la vita sul pianeta rosso. Ecco, se ci fosse vita su Marte, probabilmente sarebbe così. Piccoli organismi nascosti sotto la superficie. Un po' come quei piccoli batteri che sopravvivono sotto il deserto di Atacama, qui sulla Terra. Ed è per questo che le missioni spaziali dedicate a Marte hanno come obiettivo principale lo studio del sottosuolo. E chi lo sa, magari grazie a queste missioni riusciremo a conoscere la vera storia dei marziani. Grazie. A presto! Grazie a tutti.